la 6 vieni, vieni vieni, vieni attacco il vittore facciamo i colpi attacchi, attacchi ultimi 10, bene attività nemica c'è attività nemica c'è attività nemica che lo fa è mare il gas è pieno di addosso dobbiamo portarci nella zona è immortale granata lanciata se la sono cercata sconditi questa vittoria ne ha visto c'è ci sono tani in pazzesco in pazzesco che che dim Mirella inettate il